Come hai fatto a trovarmi? La mela che hai rubato a Mario Auditore, condotto Pinto. Uccidetelo! Uccidetelo l'assassino! Fate a pezzi quel maledetto bastardo! Uccidetelo! Mi servono munizioni. A cavallo si viaggia più rapido. Vai, vai! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Adesso morirai. Più veloci! Più veloci! Sta scappando! Muori adesso! Muori! Muori! Aiúdenme! Mi hijo! Mi hijo está herido! Muori! 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 Grazie a tutti. 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 Sei in trappola ormai. Non hai dove fuggire. Vatti sotto dunque! Non hai dove fuggire. Prendi questo! Io non posso morire. Un'auditore non vuoi! Un'auditore non vuoi! Non hai dove fuggire. Il trono era mio. Desiderare qualcosa non equivale ad averne diritto. So che un vero capo serve coloro che governa. Io guiderò l'umanità intera verso un nuovo mondo. Che nessuno ricordi il tuo nome. Che nessuno ricordi il tuo nome. Requiescati in pace. Non puoi uccidermi! Nessun uomo può uccidermi! Allora ti lascerò nelle mani del Fato. Lì! Che nessuno ricordi il tuo nome. Grazie a tutti. Grazie a tutti.